salve a tutti ragazzi qui è vostro sirico 92 ed oggi ci troviamo in un breve video per spiegarvi come fare la wellgun oro per chi ha visto il mio video in cui ho fatto questa arma oro dovreste già sapere che le descrizioni per le mimetiche erano buggate quindi per le prime sette serie di mimetiche potevamo farle perché più o meno sono sempre le stesse il problema era nelle ultime tre in quelle speciali quindi oggi siricov che cosa va a fare vi va a tradurre le tre mimetiche speciali ok perché purtroppo hanno sbagato l'arma ma le ultime tre mimetiche sono in inglese quindi non perdiamo altro tempo questo ragazzi che vedete alle mie spalle è il settaggio base che dovete utilizzare per fare le uccisioni poi andremo a cambiare l'optica ok quindi dalla rasta riflettente passeremo a visione notturna mk 12 per fare le uccisioni dalla lunga distanza su da south ok o andremo a mettere dove sta dove sta dove sta il mirino telescopico 36 per svt 40 per farle in modalità veterano ma andiamo a vedere tutto quello che bisogna fare per le mimetiche quindi primo gruppo di mimetiche 400 uccisioni tranquillo 100 uccisioni con colpo alla testa anche queste molto facili terzo gruppo 50 uccisioni multiple quindi da due o più quinto gruppo esegui 5 uccisioni senza morire 30 volte quindi per questo gruppo e per le prossime quelle da lunga distanza ci sono due metodi come vi ho detto da south vi mettete al corridoio centrale mirino notturno mirate dall'altro lato e le uccidete questa è un uccisione da lunga distanza secondo metodo su veterano mettete l'altro mirino che vi ho consigliato e vi mettete abbastanza distante dallo spawn dei nemici così potete ucciderli appena rinascono in questo modo andrete a fare le serie da 5 e le uccisioni dalla lunga distanza procedendo abbiamo 100 uccisioni a distanza ravvicinata basta essere vicini al nemico 100 uccisioni sparando senza mirare facile non mirate ed è fatta e partiamo con le mimetiche speciali da tradurre quindi per la prima mimetica 100 uccisioni in hipfire senza mirare con il calcio guenaen s custom i colpi 64 e l'efficienza spericolato per il nono gruppo di mimetica dovremo fare 100 uccisioni in modalità mirino con la canna 320 mm sa schroeder quindi quella che vi ho messo io nel settaggio con il calcio sa 43 m pacchi ok e con le munizioni da 48 gorenco per l'ultimo gruppo di mimetica dovremo fare 100 uccisioni a corto raggio con la canna 120 mm gawain corta calcio rimosso o removed stock come è scritto negli accessori e l'efficienza impedo quindi ragazzi adesso avete tutte le informazioni per fare questa alma oro mi raccomando adesso lavorateci bella